A un'età media-bassa la lista Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, la metà dei componenti non arriva a 30 anni, giovani, ma con alle spalle già molti anni di militanza politica, stamani in Piazza delle Carceri la presentazione della lista, che vede come primo nome Aldo Milone, consigliere comunale di Prato Libera e Sicura, oggi assente per impegni personali. Gli altri nomi, l'ex assessore all'urbanistica e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Gianni Cenni, Alice Gigliotti, 26 anni, studentessa di Montemurlo, Clara Donati, 21 anni, studentessa di Prato, David Minneci, 25 anni, agente di commercio di Poggio a Caiano, Teresa Ac di Prato, insegnante e imprenditrice. Modificare le politiche sbagliate della regione toscana in ambito sanitario, che purtroppo a Prato hanno la riprova dettata da quella che è l'attuale funzionalità dell'ospedale di Prato, con tutte le carenze, soprattutto anche per la mancanza delle strutture sanitarie sul territorio. Noi abbiamo un ospedale piccolo, un ospedale di breve degenza, il cosiddetto ospedale da acuti, che poi dimette delle persone le quali, ancora convalescenti, non riescono a trovare sul nostro territorio le strutture sanitarie per poter portare a compimento il loro periodo di guarigione. Ovviamente poi la politica della sicurezza, la politica di prima gli italiani rispetto agli altri cittadini, quindi nuove politiche sociali, nuove politiche della casa, il fatto comunque di utilizzare le risorse anche per arginare l'illegalità e per ciò che attiene appunto all'abusivismo nel mondo del commercio, dell'agricoltura e dell'imprenditoria, perché anche ora è scoppiato il caso, per esempio, dell'agricoltura.